Federico Angelucci rinnega amici di Maria De Filippi? Le dichiarazioni del cantante Mi pento ogni giorno di tante cose. . Oggi mi pento di aver fatto amici e domani mi pento di aver fatto questo lavoro ha dichiarato attraverso un'intervista a Vanity Fair mi è capitato di commuovermi leggendo gli ultimi articoli su di me. Le dico solo che non ho ancora digitato Federico Angelucci su Google, sono ancora traumatizzato da quello che usciva un mese fa. Uno dei primi articoli in sovrimpressione era, Federico Angelucci, il non talento di amici. Ora è arrivato il momento del riscatto. L'intervista a Velvet Maggi in realtà Federico non rinnega di aver partecipato. . Si tratta di un discorso molto più ampio, e facilmente comprensibile, amici mi è servito senza dubbio ha detto in una video intervista esclusiva a Velvet Maggi al termine della conferenza stampa dello show condotto da Carlo Conti per esempio ad essere qua. . Senza amici non sarei qua, non avrei potuto partecipare. Vado a giorni alterni, ti dico la verità. Se me lo chiedi ancora domani ti dico che mi è servito, ma in passato è stato a falsi alterne. .